Il governo ha deciso che il voto in condotta fa media e chi prende un'insufficienza in condotta rischia di perdere l'anno o rischia addirittura di non essere ammesso agli esami di maturità. E questa è un po' la nuova scommessa della compagine guidata da Giorgio Meloni per cercare di arginare questa ondata di violenza che sicuramente si sta ripercuotendo anche nella scuola. Ogni giorno assistiamo a episodi poi replicati sui media attraverso i social network di violenza a persone, violenza animali, di cyberbullismo, di sexting, episodi che ci fanno comprendere come l'emergenza educativa sia abbastanza forte. Allora si sta prendendo un po' questo dibattito. È giusto che una persona che ha avuto un comportamento che non è qualificabile debba essere bocciato oppure debba addirittura rinunciare agli esami di maturità o agli esami di terza media o agli esami di quinta elementare perché non ha un buon voto in contotta, non ha raggiunto la sufficienza. È giusto pensare che questo metodo repressivo è il metodo per fermare quest'ondata di violenza? Tutti se lo stanno chiedendo, si stanno interrogando dopo che appunto c'è stata questa comunicazione del ministro valditare che ha detto basta finiamolo, mettiamo un punto, la decisione è questa e chi non si allinea sarà bocciato. Nel frattempo mentre accadono queste cose sentiamo ragazzi che uccidono le caprette per gioco, ragazzi che uccidono altri animali, ragazzi che postano il video di un pesciolino sbattuto a terra e ucciso e potremmo continuare così la challenge dove devi bere il deodorante e rischi di morire. Insomma cose che ci fanno capire che il limite è stato superato e che pur di apparire, pur di andare su TikTok, pur di fare un video che può essere sconvolgente rispetto a quello che è la follia generale, allora si rischia qualunque cosa. Figuriamoci a scuola come potrà andare questa vicenda dove tutti pensano che i freni inibitori debbano essere liberati completamente, annullati e che a scuola si può fare quello che si vuole. Allora il voto in condotta forse può essere una prima soluzione, la seconda soluzione è quella certamente di lavorare sui valori, di lavorare sui diritti, sui doveri, sulla responsabilità. Quindi se noi continuiamo a mettere in campo solo ed esclusivamente elementi repressivi probabilmente non riusciremo dal punto di vista educativo a raggiungere i risultati che vogliamo. Però intanto forse il fatto che si rischia di perdere l'anno se si fa una bravata o se si esagera, forse questo può essere un elemento che può far diflettere soprattutto i bulli, le bulle, tutte le persone che pensano che si può fare qualunque tipo di cosa perché tanto è un gioco.